Buonasera, fine settimana all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che anche nella giornata di domenica proteggerà il nostro territorio tenendo lontane le correnti d'aria fredda e quindi portando le temperature in rialzo. Infatti se andiamo a osservare in dettaglio i valori si toccheranno punte di 20-22 gradi. Vediamo le previsioni per la giornata di domenica che vedranno tempo in prevalenza soleggiato con un po' di nuvolosità tra Liguria, Alta Toscana e all'estremo nord-est. Per il ponte del 25 aprile e quindi per lunedì e martedì l'alta pressione proteggerà ancora il centro-sud garantendo tempo stabile, al nord invece arriveranno delle correnti umide che porteranno un po' di nuvolosità. Per ulteriori dettagli ed informazioni vi consiglio grazie a tutti.